Il Vescovo di Vittorio Veneto Penso che possa essere un bilancio non esaltante ma positivo nel senso che come diocesi abbiamo continuato il nostro cammino a partire dallo studio, dall'approfondimento comune dell'Evangelio Gaudi che poi ha trovato nella riflessione sul nostro modo di celebrare l'Eucaristia un ulteriore proseguimento e quest'anno, restando sempre sul tema, una riflessione, un approfondimento del tema dell'ospitalità che deve caratterizzare la nostra celebrazione, le nostre celebrazioni eucaristiche ma più ampiamente tutta la nostra vita. Io credo che parrocchia più, parrocchia meno, forania di più, forania di meno ma l'intera diocesi si sia mossa in questo cammino contemporaneamente anche attraverso gli avvicendamenti che ci sono stati nelle nostre parrocchie, continuando il cammino di quella pastorale, delle unità pastorali tra le nostre parrocchie che ormai è una linea da cui non possiamo più tornare indietro. Io percepisco un clima buono, certamente segnato da alcune fatiche, da alcune difficoltà tipiche anche della cultura in cui noi viviamo ma mi pare che stiamo impegnandoci seriamente come Chiesa in questo percorso. Una riflessione ora sulla nostra società. Secondo lei che direzione ha preso e che direzione sta prendendo l'Italia anche dal punto di vista politico, istituzionale negli ultimi tempi? È una domanda molto impegnativa, non saprei dare una risposta così tranquilla e risolutiva. Certo ci sono dei tentativi e degli sforzi anche per far crescere e realizzare alcuni obiettivi che magari in passato non sono stati realizzati sufficientemente, ad esempio l'attenzione alle fasce più povere della popolazione, una partecipazione maggiore di tutti i cittadini a quella che è la situazione di possibile benessere e altro. Certo il modo con cui questo viene realizzato, francamente occorre dirlo, non è senza alcune preoccupazioni. Il timore è che queste buone intenzioni che penso abbiano tutti i nostri politici di fatto non si realizzino nel modo sperato ma provochino magari dei guai anche ulteriori. Ecco, credo che questa preoccupazione mi pare che possa essere presente specialmente anche nelle nostre regioni riguardanti sia il discorso dell'incentivo e dell'incremento dato al lavoro, alle imprese che sembrano lamentarsi di non vedere i risultati, sia di alcune prospettive in cui per trovare dei fondi per realizzare ciò che il governo si propone vengono penalizzate altre realtà, ad esempio quelle del terzo settore. Ecco, questo credo che sia una preoccupazione che deve accompagnare e magari anche essere fatta presente nel cammino sociale, politico del nostro paese. Contemporaneamente aggiungo anche una tendenza a vedere alcune realtà come capri espiatori, possiamo dire così, delle situazioni. Penso, per esempio, a quello riguardante la situazione dei migranti o dei richiedenti asilo. che certamente costituiscono una questione non facile da risolvere, ma sembrano essere caricati di tutte le colpe, diciamo, della situazione di difficoltà in cui vive il nostro paese, che non mi pare obiettivo. La Chiesa invece, in tutto ciò, che ruolo gioca? Ma la Chiesa, penso che in questo momento, non sia in una posizione di grande forza, anche perché su questi aspetti, riguardanti in modo particolare l'accoglienza, riguardanti alcuni problemi più tipicamente, che riguardano più tipicamente le fasce più debili dell'oporazione, molti cristiani stessi sono su una posizione di non accoglienza. Su questo aspetto dobbiamo, francamente, riconoscerlo. Motivi possono essere tanti, non è questione di cattiveria o meno, però ci si trova proprio con questa difficoltà di ascolto, per cui è anche difficile trovare le parole giuste da dire, senza provocare ulteriori rifiuti, ma cercando anche di far ragionare le persone. La mia impressione è che oggi prevalga un tipo di ragionamento, così definiamolo, di pancia, è un termine brutto se si vuole, però più basato sull'emotività, sulla impulsività, e meno sulla riflessione e sulla pacatezza. In questo senso, la Chiesa, obiettivamente, si trova in difficoltà. Probabilmente l'unica strada è quella di continuare ad agire, nonostante le difficoltà e anche le contrarietà di cui deve far conto, agire mostrando che lo fa, non tanto per ricerca di voti, non tanto per ricerca di appoggi, ma perché è semplicemente fedele al Vangelo. Credo che questa sia l'unica strada, che certamente è faticosa, ma che è l'unica strada consentita dalla fedeltà al Signore Gesù. Veniamo al Natale. Lei, appunto, anche nel suo messaggio alla Diocesi per il Natale, ha detto che questo deve essere un Natale di accoglienza. Sì, mi sono rifatto anche alla parola chiave, diciamo, il tema chiave che ci accompagna in questo anno pastorale, che è il tema dell'ospitalità. Un'ospitalità che deve realizzarsi, abbiamo detto in modo tutto particolare, nelle nostre celebrazioni eucaristiche, ma evidentemente non può essere circoscritto alle nostre celebrazioni eucaristiche, ma deve estendersi ad ogni altra relazione, a partire, certo, da quell'ospitalità che si vive nella celebrazione eucaristica. Nella celebrazione eucaristica, infatti, noi siamo ospitati dal Signore Gesù, ospitati nel suo cuore, nel suo amore, dalla sua parola, e rilanciati nella vita quotidiana, capaci di diventare noi stessi portatori di ospitalità. e in questo senso mi pare che il Natale sia una delle solennità della nostra fede che maggiormente fanno appello e rievocano questo tema, questa esperienza dell'ospitalità. E nel messaggio che ho dato per Natale faccio presente proprio che Maria, Giuseppe e il bambino che è nato a Betlemme hanno fatto esperienza di tutto fuori che di ospitalità. Mi rifaccio a una poesia famosa di Guido Gozzano che descrive i rifiuti che essi ricevettero di volta in volta da tante persone. E tuttavia il Signore non ha rifiutato di farsi uomo, Dio non ha rifiutato di dare il suo figlio, ma ha accolto questa umanità con le sue fatiche, con le sue durezze, proprio per cambiarla dal di dentro, cambiarne il cuore, proprio attraverso l'amore donato, l'ospitalità offerta, in modo che anche il cuore di chi viene accolto nonostante le sue fatiche, le sue durezze, i suoi peccati, possa farsi ospitale. Grazie, eccellenza. L'augurio ora ai nostri telespettatori. L'augurio, io credo, quello di un santo natale, però questo aggettivo santo è molto ricco. Un santo natale vuol dire lasciarsi veramente toccare dal mistero che celebriamo, dal mistero di amore, di tenerezza, di ospitalità, come dicevo poco fa, diventando capaci di essere, proprio a nostra volta, accoglienti verso tutte quelle persone che immediatamente non ci sembrano magari così simpatiche, così attraenti, ma sono i nostri fratelli, le nostre sorelle in cui il Signore Gesù si fa presente. Un augurio quindi di buon Natale e un augurio di serenità, un augurio di pace, un augurio di accoglienza e di amore.